bella raga qua è savix che vi parla bentornati in questo nuovo video e benvenuto se sei nuovo nel canale oggi raga semi money freeze perché semi perché ci servirà la base di soldi nel conto per poter comprare la roba ma poi ce l'avremo di nuovo quindi ragazzi requisito la possibilità di creare il secondo personaggio ragazzi quindi se avete secondo personaggio lasciate perdere e mi raccomando solo old gen solo la vecchia versione di gioco quindi una volta online andiamo alla gestione del personaggio ragazzi andiamo alla selezione e andiamo a creare il secondo pg se già ce lo avete ragazzi dovete cancellare il secondo personaggio e ricrearlo perché il glitch funziona solo al momento della creazione del personaggio se invece fate il glitch col personaggio già creato non funzionerà quindi io in questo caso non l'avevo creato e lo creo al momento adesso semplicemente lo creo così come capita ragazzi e vado online i soldi saranno in comune raga quindi venderemo sul secondo pg e avremo i soldi sul primo pg quindi ovviamente la base la faremo con il primo ragazzi per poi fare il glitch con il secondo pg una volta creato e spawnato online con il secondo personaggio mi raccomando mettetevi subito in passiva raga come potete vedere già qua trema tutto perché se morite avete fatto danno è fondamentale appena spawnate passiva ragazzi a questo punto una volta messa la passiva apriamo il nostro telefono e andiamo a comprarci l'appartamento ragazzi da dieci posti in cui volete mettere le vostre delaxo mi raccomando non comprate il ceo ragazzi non comprate l'agenzia e non mi ricordo quale altro complesso fa questa cosa perché se no vi crasha il sito si chiude appena lo comprate e avete rotto il glitch dovete iniziare tutto da capo vi consiglio anche di non comprare raga per nessun motivo il garage a 50 posti mettere le delaxo dentro il garage da 50 posti perché quel garage è buggato si vocifera che è un cheater ragazzi è un kicker per rockstar per verificare se effettivamente dentro quel garage vengono messe delaxo in modi strani ragazzi quindi state attenti a questo punto una volta che avete comprato l'appartamento ragazzi tipo le clips tower tornate indietro fino alla schermata principale del sito senza chiudere mai il sito raga fondamentale perché se chiude il sito fate danno perché fa il caricamento e salva quindi andiamo sulle delaxo raga e compriamo 10 delaxo riempiamo il garage di delaxo a questo punto una volta che vi siete riempiti il garage di delaxo senza chiudere il sito ragazzi ve lo ripeto perché è fondamentale cosa fate dovete staccare la connessione alla console come fate ora in questo caso voi non lo potete vedere perché io ce l'ho cablata quindi ho il cavo attaccato alla console e semplicemente per staccare la connessione stacco il cavo e lo rimetto se voi avete il cavo fate la stessa cosa se no aprite il menu ps o xbox andate su impostazioni rete raga e staccate il wifi e ricollegate il wifi vi darà questo messaggio ragazzi di errore che la connessione è stata mandata a farsi fottere e a questo punto cosa facciamo accettiamo l'allerta una volta che accetteremo l'allerta regà spawneremo in storia una volta che saremo spawnati in storia apriamo il menu di pausa andiamo su online e andiamo in una sessione solo a inviti ragazzi così non ci fracassa nessuno a questo punto potrebbe darci il messaggio ragazzi per cambiare l'aspetto al personaggio non dovete cambiare niente cosa fate quindi rifiutate schiacciate b o cerchio ragazzi una volta rifiutato il messaggio andrete online quindi a questo punto vi faccio vedere aprendo il telefono che se chiamiamo il meccanico ci stanno tutte le deluxo dentro garage e come avete visto ragazzi ci sono ancora i soldi adesso vi faccio vedere uno screen apposta per farvelo notare comunque sia ragazzi adesso dovremmo andare nel nostro garage dove abbiamo comprato le deluxo quindi intanto guardate lo screen ragazzi che ci sono i stessi soldi di quando abbiamo iniziato quindi a questo punto cosa dobbiamo fare semplicemente raga entriamo dentro il garage dove abbiamo messo le deluxo e una volta che siamo entrati dentro il garage senza morire senza farci ammazzare eccetera 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 dovremmo andare a spostare una deluxo con l'altra quindi partiamo dalla prima sostituiamo con la seconda la seconda con la terza e così via con tutte le deluxo quindi a questo punto cosa fate una volta che avete sostituito tutte le macchine come sto facendo io raga le andate a vendere una volta che avete venduto raga cosa fate cancellate il secondo personaggio e riniziate da capo mi raccomando dovete sempre cancellare poi il secondo pg per rifare glitch se no non funzionerà più funziona solo al momento della creazione quindi ragazzi se vi è piaciuto il video lasciate un like lasciate un commento supportate xavix supportate il canale e niente alla prossima sbada bam mi raccomando non ne fate abuso ciao 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 ciao